E' l'inizio di un qualche cosa che mi permette di rendere concreti determinati sogni, dato che in questo contesto storico è sempre un po' difficile mettere in pratica e realizzare certi sogni. Siamo più motivati per questa grande opportunità che ci ha dato questo istituto. Un contratto non stabile ti dà non stabilità sia per un mutuo o un qualsiasi cosa. Per un futuro nostro. E' ora, è tutto in discesa da un punto di vista di tutte queste pratiche burocratiche. 17 infermieri, due tecnici di laboratorio biomedico, due operatori sociosanitari, un collaboratore amministrativo, un ingegnere e un addetto stampa. In tutto l'istituto tumori Giovanni Paolo II, istituto di ricovere e cure a carattere scientifico, ha stabilizzato 24 dei 46 dipendenti precari. Abbiamo in questo modo rafforzato la capacità di fare ricerca scientifica di questo istituto oncologico. Poi è evidente che trovano un lavoro più o meno stabile tanti ragazzi pugliesi. Sono ovviamente famiglie che non si dividono, non si separano e che consentono poi a noi tutti di rafforzare la capacità complessiva del sistema della regione, di innovare, di dare maggiore risposte di salute anche ai nostri pazienti. Le mie congratulazioni al Consiglio di indirizzo che è presieduto dall'onorevole Grassi e soprattutto al direttore generale e alla direzione strategica che stanno lavorando, combattendo una battaglia anche in un momento complicato, diciamoci la verità, perché abbiamo dovuto anche in questo contesto fortemente aumentare la capacità di controllo sulle attività di chiunque. Questo lavoro di raddrezzamento viene fatto in questo contesto così delicato dalla direzione strategica e ovviamente anche col supporto delle forze dell'ordine. Stabilizzare 24 dipendenti vuol dire assicurare tranquillità psicologica, economica e lavorativa alle persone, in piena corrispondenza con la Costituzione quando parla del lavoro per la realizzazione della persona. 24 su 46, un giorno bello è sempre un momento di festa perché assicuriamo non soltanto una prospettiva di vita ma anche una prospettiva di lavoro, aumentiamo il senso di appartenenza al nostro istituto e in questa maniera consentiamo a loro ma soprattutto anche a noi come organizzazione complessiva una crescita costante con programmi a lungo termine. Noi valorizziamo le persone che già sono inserite nel nostro sistema che in questo modo omettono, smettono di viaggiare, smettono di andare fuori regione, fuori nazione. Con la stabilizzazione noi conferiamo alla nostra istituzione quella stabilità necessaria per poter fare programmi di ricerca e programmi anche di clinica ad alta complessità che ci consentono di essere sempre all'avanguardia nel mondo sanitario e nel mondo della ricerca scientifica.